di ripresa per ora non potrò dire io c'ero ma potrò sempre essere orgogliosa di essere una tua fan da più di vent'anni posso essere orgogliosa di avere una cantante preferita come te che promette di tornare e torna e che non mi lascia mai anche quando il destino ti sfasa i piani perciò io non ci sarò ma tu per me non mancherai mai buon concerto allora questa ragazza si chiama Roberta Semeraro sono entrata nel suo facebook per vedere chi è lavora all'asilo l'unido ludoteca la città delle meraviglie a Lecce sta facendo l'università di Salerno credo mi sta del Salerno scusate l'ha finita immagino e io ho guardato nelle schede del mio fan club ed è iscritta quindi ho il numero di telefono e siccome non è potuto venire io vorrei fare facciamo silenzio e poi se risponde facciamo un urlo tipo Roberta ok? aspettate un attimo eh questa è una di noi eh aspettate shh secondo me è risuscita che stai e andavo stesse bene in mezzo qui la shh anzi sì dovrà dovrà andare no ciao Roberta ciao Roberta sono Laura Pausini cosa fai a casa come stai? allora aspetta Roberta siccome oggi ho letto su facebook devo parlare qua siccome oggi ho letto su facebook che non potevi venire perché hai fatto un incidente e siccome hai comprato il biglietto un anno fa ho letto tutto quello che hai scritto io volevo anche per solo un secondo farti partecipare a questo nostro concerto insieme e volevo farti salutare dalla tua Puglia grazie